Finalmente anche Prime Video ha ufficializzato quelle che saranno le uscite durante il mese di novembre e quindi ne possiamo parlare in quella che è la nuova puntata della canonica rubrica mensile che appunto mi permette di parlarvi delle nuove uscite proprio sulla piattaforma Prime Video però prima di iniziare come sempre piccolo angolo promozionale per ricordarvi innanzitutto di iscrivervi al canale ed è il gesto più rapido, semplice ma anche più importante che possiate fare per sostenere appunto la crescita del canale attivate la campanella e poi vi ricordo anche che se volete aiutare questo video un po' a smuovere l'algoritmo di YouTube e farsi vedere potete lasciare un like, potete commentarlo con le vostre opinioni sui film di cui andremo a parlare e condividere il video ovunque vogliate infine vi ricordo in descrizione trovate un link Amazon da poter usare per fare qualunque vostro acquisto e poi i link della mia pagina Facebook, della mia pagina Instagram e del mio canale Telegram iscrivetevi anche lì, vi aspetto anche lì chiusa questa piccola parentesi passiamo a quello che appunto è il canonico appuntamento mensile riguardante appunto la rubrica di consigli per quanto concerne appunto le uscite su Prime Video durante il mese che è appena iniziato e cioè il mese di novembre e come sempre faccio, chi mi segue da un po' già lo sa anche in questo caso vi andrò ad elencare 7 film, non 10 ma 7 film che appunto sbarcano sulla piattaforma di casa Amazon durante questo mese e ve li andrò ad elencare come sempre senza seguire un ordine di preferenza non è una classifica, certo ci sono alcuni film che secondo me vale la pena attenzionare di più rispetto ad altri e come sempre vi ricordo anche che questa sì è una rubrica di consigli ma alcuni di questi film io potrei anche non averli visti ovviamente sono dei consigli che do a voi ma fondamentalmente sono dei consigli proprio per tenere d'occhio questi titoli perché potrebbero essere interessanti anche perché spesso si parla anche di film inediti quindi è ovvio che io non posso averli visti e quindi sono dei consigli che do anche a me stesso quindi questo per poter precisare ogni volta di tanto in tanto lo faccio quella che è la natura di questa rubrica proprio per prevenire eventuali commenti che possono spesso ripetersi ma doc perché consigli dei film che non hai visto è una rubrica di consigli ma mettiamolo in maniera abbastanza sui generi se sono dei consigli relativi appunto a dei film che vale la pena secondo me attenzionare ma bando alle ciance direi che abbiamo fatto un preambolo quanto più lungo possibile adesso basta passiamo a quelli che sono appunto i consigli del mese di novembre per quanto riguarda appunto le uscite su Prime Video voglio iniziare con il film Saltborn un film di Emerald Fennell una regista che nel corso degli anni scorsi ha avuto la possibilità già di salire anche agli onori della cronaca cinematografica più che altro della critica anche cinematografica per esempio con Una Donna Promettente di qualche anno fa ritorna appunto con un nuovo film che vede tra i protagonisti soprattutto Barry Keoghan un attore che io stimo particolarmente e che sta sempre di più tra l'altro dimostrando di essere un valido artista basta ricordare per esempio quella che è la sua prova nel film quella che è il film di Martin McDonagh gli spiriti dell'isola per esempio ma in realtà non soltanto per quanto riguarda appunto Saltborn è un film che da quello che ho letto anche se in realtà è stato quasi impossibile approfondire più di tanto la trama ma racconta la storia di uno studente universitario di Oxford a metà degli anni 2000 che viene invitato a passare un determinato intervallo di tempo da un eccentrico miliardario in quella che è la sua villa di famiglia non ho trovato altro ve lo devo dire in realtà la cosa non mi dispiace perché come sempre io non voglio più che altro spoilerarmi i film quindi se dovesse arrivare appunto alla visione di questa pellicola sapendo solo questo mi andrebbe più che bene è un film che viene etichettato come un film drammatico thriller quindi è chiaro che mi aspetto comunque la presenza di un'atmosfera che appunto possa giustificare l'etichetta del thriller per quanto riguarda questa pellicola quindi un film che tra l'altro arriva su Prime Video ve lo ricordo il 17 di novembre quindi Saltborn 17 di novembre nuovo film di Emerald Fennell con la presenza di Barry Keoghan devo dire che mi interessa particolarmente mi attira lo metto tra quelle che sono le mie priorità per quanto riguarda il mese di novembre non so se avrà la possibilità di dire la sua anche in ottica di quelle che saranno poi le premiazioni le cerimonie soprattutto di premiazioni gli Oscar questo non lo so è ancora troppo presto però teniamolo d'occhio perché non si sa mai quindi primo consiglio Saltborn a partire dal 17 di novembre lo troviamo su Prime Video procediamo poi con un film che è uscito un film italiano che è uscito nelle sale alcuni mesi fa se non ricordo male un paio di mesi fa più o meno ed è un film diretto da Rocco Papaleo ed è scordato un film tra l'altro con lo stesso Papaleo come protagonista principale e tra le protagoniste abbiamo anche Giorgia la cantante ovviamente credo alla sua prima prova attoriale di un certo spessore perché comunque lei è la coprotagonista del film da quello che leggo nella trama ed in particolar modo il film racconta la storia di un uomo un accordatore di pianoforte che è costretto a fare i conti con dei dolori alla schiena incontra una fisioterapista che è interpretata chiaramente da Giorgia e il protagonista interpretato da Rocco Papaleo una fisioterapista che in realtà andrà oltre quello che è il suo lavoro e cercherà in qualche modo di capire quelle che sono quelle che è il malessere appunto di questo personaggio che è un malessere che affonda le proprie radici in realtà in situazioni personali, familiari degli anni precedenti nella sua vita passata quindi un film che mi incuriosisce anche perché purtroppo non ho avuto la possibilità di andarlo a vedere in sala nel momento in cui appunto è arrivato nelle sale cinematografiche qui in Italia ripeto un paio di mesi fa credo fosse estate non vorrei sbagliarmi non vorrei ricordare male ma a partire dal 27 di novembre lo troviamo su Prime Video quindi un film come vi ho detto che mi incuriosisce già dal trailer mi aveva in qualche modo attirato bene o male ne ho sentito parlare comunque in termini positivi da coloro che hanno avuto la possibilità di guardarlo chiaramente se già lo avete visto fatemi sapere che ne pensate senza fare spoiler qui nei commenti quindi a partire dal 27 di novembre scordato lo troviamo su Prime Video procediamo poi con un film che arriva su Prime Video a partire dal 17 di novembre un altro film italiano ed è Il Migliore dei Mondi un film diretto da Marcello Macchia ora chi magari non dovesse sapere di chi si tratta potrebbe rimanere sorpreso in un primo momento sono rimasto un po' interdetto anche io in realtà non è altro che Maccio Capatonda che infatti è anche il protagonista di questo film tanto che infatti quando ho letto la lista dei film che arrivano su Prime Video ho visto Il Migliore dei Mondi con Maccio Capatonda diretto da Marcello Macchia per qualche secondo ho detto ma chi è questo Marcello Macchia? no in realtà è Maccio Capatonda è un film che racconta la storia di un uomo che viene catapultato ora non so con quali dinamiche in realtà viene catapultato in un universo alternativo in un universo parallelo nel 2023 ma appunto di un'altra dimensione dove il progresso tecnologico si è fermato in realtà agli anni 90 quindi si passa da un mondo che è chiaramente improntato al digitale quello nostro ad un mondo completamente analogico ora non so in realtà che cosa aspettarmi da questo film perché bene o male le opere di Maccio Capatonda sono sempre imprevedibili come del resto imprevedibile lui nel momento in cui lo si ritrova anche in uno show televisivo in uno show teatrale staremo a vedere mi incuriosisce anche se sicuramente non rientra tra le mie priorità a me Maccio Capatonda piace parecchio come artista ma non tanto come personaggio nei film più che altro appunto come personaggio o negli show televisivi oppure come come dire show teatrali quindi nel momento in cui è impegnato in dei numeri non particolarmente lunghi ecco per quanto sia tra l'altro una persona particolarmente interessante anche da ascoltare ho avuto modo di vederlo protagonista anche di diversi podcast anche qui su YouTube però da un punto di vista cinematografico diciamo che non mi ha mai fatto impazzire per quanto la sua celebrità tra l'altro sia nata lo ricordiamo grazie a quelli che sono i suoi famosi trailer degli anni scorsi però il migliore dei mondi appunto film che lo vede protagonista sia da attore sia da regista arriva su Prime Video a partire dal 17 di novembre procediamo poi con un film che anche in questo caso non è inedito perché è un film che è già uscito nelle sale l'anno scorso non ve lo ricordare male ed è Uncharted un film che arriva su Prime Video a partire dal 26 di novembre con la presenza tra gli altri di Tom Holland ma anche di Mark Wahlberg un film che tra l'altro racconta una storia che in qualche modo non è altro che è la trasposizione cinematografica di un omonimo videogioco ora io non ho mai giocato ad Uncharted c'è da dire quindi non conosco nel dettaglio la storia so che è un gioco d'avventura così come lo è anche il film non ho neanche mai visto il film Sinadora neanche quando uscì nelle sale quindi non ne so parlare nel dettaglio personalmente fatemi sapere voi che cosa ne pensate ovviamente se vale la pena recuperarlo soprattutto se vale la pena recuperarlo senza avere mai giocato a quello che è il videogioco di riferimento il videogame Uncharted quindi fatemi avere la vostra opinione non credo anche in questo caso che rientrerà tra le mie priorità ma magari potrei anche decidere di dargli una possibilità e recuperarlo proprio perché Uncharted a partire dal 26 di novembre lo si può ritrovare appunto su Prime Video fermo restando che in realtà è un film che già da parecchio tempo presenti anche in home video per esempio quindi però dal 26 di novembre lo possiamo trovare gratuitamente per chi è abbonato a Prime Video proprio sulla piattaforma targata Amazon procediamo poi con un altro film non inedito perché anche questo in realtà è già uscito nelle sale qualche mese fa ed è Sisu un film che arriva appunto su Prime Video a partire dal 18 di novembre ed è un film che racconta la storia di un uomo che durante la guerra di Lapponia che non è altro che diciamo la seconda guerra mondiale uno sconto tra la Finlandia e la Germania si trova appunto in Lapponia e trova in maniera come dire inaspettata un filone d'oro quindi si riesce ad arricchire in maniera particolarmente importante cerca in qualche modo di intraprendere un viaggio per poter portare appunto questa sua ricchezza ma deve fare i conti con l'esercito nazista con i tedeschi con le SS non ho voluto approfondire più di tanto perché non volevo spoilerarmi il film un film tra l'altro appunto finlandese quindi una produzione scandinava ne ho sentito parlare tra l'altro in termini positivi da parecchie persone anche diciamo persone delle quali mi fido però purtroppo ancora non ho avuto la possibilità di recuperarlo quindi anche qui vale lo stesso discorso che ho fatto poc'anzi sono dei consigli che do a voi ma li sto dando fondamentalmente anche a me stesso per tenere d'occhio queste pellicole se già lo avete visto fatemi sapere che cosa ne pensate senza fare spoiler anche in questo caso nei commenti quindi Sisu a partire dal 18 di novembre lo possiamo trovare appunto su Prime Video il 13 di novembre invece sbarca su Prime Video un film horror che anche questo mi è rimasto un pochino sul gargarozzo come si vuol dire perché anche questo è arrivato in sala anche se non con una distribuzione particolarmente omogenea nelle mie zone è stato molto complicato trovare una sala per poterlo andare a vedere ed infatti non ho avuto la possibilità di andarla a vedere ed è Demeter il risveglio di Dracula film che appunto arriva su Prime Video a partire dal 13 di novembre è un film horror come è facile da intuire anche dal titolo non è altro che una sorta di rivisitazione del mito di Dracula con una nave appunto la Demeter che in maniera come dire senza diciamo l'equipaggio di questa nave senza saperlo trasporta proprio Dracula al suo interno tanto che infatti questa nave viene ritrovata all'inizio del film da quello che ho capito completamente priva di equipaggio tutti sono purtroppo stati uccisi e si capisce poi a poco a poco che in realtà c'era una maledizione che in qualche modo ha colpito la nave e ha colpito proprio l'equipaggio proprio a causa della presenza di Dracula ora non ho voluto anche qui approfondire più di tanto perché anche in questo caso ne ho sentito parlare in maniera più che positiva da parecchie persone quindi non vedo l'ora di poterlo recuperare appunto il 13 di novembre è il giorno in cui questo film sbarca su Prime Video e quindi avrò la possibilità finalmente di colmare questa lacuna e di soddisfare la mia curiosità anche in questo caso chiaramente fatemi sapere la vostra opinione quindi penultimo consiglio questo era il sesto consiglio di mettere il riveglio di Dracula a partire dal 13 di novembre lo troviamo su Prime Video ed infine chiudiamo secondo me in bellezza con un film non inedito anche in questo caso perché è un film già uscito da un paio d'anni più o meno ed è The Northman film di Robert Eggers chiaramente l'ultimo film sino ad ora di questo regista che sbarca tra l'altro su Prime Video a partire dal 7 di novembre è un film del quale ho già parlato anche in una recensione che realizzai tempo fa quando appunto il film arrivò nelle sale terzo film di un regista che io nel corso degli anni con quelli che sono Sinadori i suoi tre film ho sempre apprezzato diciamo più o meno con The Witch che per me continua a rimanere il suo capolavoro ho apprezzato anche The Lighthouse per quanto sia un'opera molto diversa anche più criptica mettiamola così degli altri suoi film ma The Northman che si distacca anche per genere perché è un film che è più che altro orientato verso il fantasy il dramma il dramma mitologico quasi epico quindi non è un film horror in senso stretto per quanto ci siano anche dei momenti particolarmente inquietanti anche in questa pellicola quindi Robert Eggers ha voluto in qualche modo provare a dimostrare di essere un regista a tutto tondo c'è chi ne è rimasto soddisfatto c'è chi invece questo film non lo ha apprezzato più di tanto a me è piaciuto per quanto io abbia preferito il Robert Eggers dei film precedenti questo senza dubbio però The Northman è comunque un gran bel film secondo me senza se e senza ma quindi a partire dal 7 di novembre lo possiamo trovare su Prime Video ed io vi consiglio comunque di recuperarlo perché vi ritroverete di fronte ad un film ripeto non perfetto non è il film migliore di questo regista non è sicuramente da considerare un capolavoro diciamo un film con alcuni problemi legati proprio anche alla tutta la sua lunghezza alla successione anche degli eventi che vengono raccontati ma per me rimane comunque un gran bel film una conferma appunto di quella che è la bravura di Robert Eggers dietro la macchina da presa e quindi chiudiamo così in bellezza questa puntata di novembre appunto dedicata ai consigli per quanto riguarda Prime Video vi ripetisco appunto quello che ho detto fino ad ora cioè fatemi sapere che cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti se tra quelli che vi ho elencato ci sono dei film che vi interessano maggiormente rispetto ad altri se ne avete già visti alcuni come vi ho detto fatemi sapere la vostra opinione qui nei commenti quindi tutto potete farlo appunto qui sotto vi leggerò come sempre con tanta curiosità quindi vi aspetto qui nei commenti io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo fondamentale iscrivetevi al canale è la cosa più rapida semplice ma anche più importante che possiate fare per aiutarmi a far crescere ancora di più il canale attivate la campanella poi vi ricordo che potete anche lasciare un like commentare il video come vi ho detto condividerlo ovunque vogliate e in descrizione trovate un link amazon da poter usare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto e poi trovate i link della mia pagina facebook della mia pagina instagram e del mio canale telegram e vi aspetto anche lì iscrivetevi anche lì noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale io come sempre vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti